Seguire il cuore Significa semplicemente farsi guidare dall'amore Nel suo significato più grande La nuova collezione Primavera Estate 2016 Heart Si sviluppa come un inno all'amore Concepito per una donna polverini, romantica e indipendente Capace di affrontare con anima e passione Un momento storico così importante L'eleganza di un gesto Che incontra la delicatezza di un taglio E si fa notare con stile Per la nuova stagione Polverini propone dunque una gamma di nuance pastello Declinate da rosa tenue All'azzurro polveroso Che si alternano esaltando linee morbide Graffiate dai volumi leggeri Quasi indefiniti come un battito di cuore Ed acconciature aristocratiche ed eleganti Spiccano tagli soft Dalla texture destrutturata e performante Per offrire la massima qualità Ed appagare il senso di libertà in ogni donna Attraverso un look 100% naturale Graffiate dai volumi leggeri Graffiate dai volumi leggeri